Mentre prosegue il mio viaggio nell'ideale tunnel che mi dovrebbe portare verso un migliore futuro, Simonelli Editore compie nel 2023 27 anni dalla sua nascita. All'inizio si è dedicato anche all'editoria tradizionale con una grande distribuzione in Italia di tanti titoli che hanno avuto un loro successo, poi da un certo punto in poi ha realizzato quella che era la vocazione per la quale era nato nel 1995, quella di realizzare gli e-book, ma non di realizzare quei cosiddetti tra virgolette i falsi e-book che sono la fotocopia digitale di tutto ciò che si trova già pubblicato in volume nelle librerie, ma creare proprio una linea di produzione innanzitutto e soprattutto digitale, magari rovesciando il calzino della tradizione editoriale, ovvero prima pubblicare in digitale e poi se occorre, se il pubblico lo richiede, allora on demand fare la versione in volume su richiesta di chi la desidera. Ecco, io vorrei che in questo viaggio ci fosse e si manifestasse nei confronti del Simonelli Editore attenzione e rispetto. Perché dico attenzione? Perché notoriamente io non sono un personaggio che frequenta molto i salotti, li faccio in video intervistando uno per uno dei personaggi che mi sembrano interessanti per delle idee che stanno realizzando, che stanno portando avanti, oppure anche i protagonisti e gli autori degli ebook che vado pubblicando, ma non sono un personaggio salutiero, non sono un personaggio che sa curare molto le cosiddette pubbliche relazioni. Per cui me ne sto nel mio angolino e zitto zitto produco degli ebook, degli ebook che ieri stavo riordinando il catalogo di tutti gli ebook prodotti sino ad oggi, pensate, sono arrivati a 1100 titoli in vari formati digitali, per cui diciamo nel formato e-pub ce ne saranno 800-850 che si trovano un po' ovunque, a partire da ebooksitalia.com che è la mia piattaforma di distribuzione e vendita degli ebook e poi si trovano su Amazon, su iTunes, su Google Play, su Kobo, che Kobo poi li rimbalza su IBS, sui Mondadori, sulla Feltrinelli, sulla Libreria Rizzoli, sui Libraccio, in ogni modo hanno una distribuzione veramente ampia, globale, però mi sto chiedendo che senso ha se a un certo punto gli ebook in italiano di Simonelli Editore su iTunes compaiono in 66 paesi del mondo e parlano soltanto italiano e qui apro e chiudo una parentesi ed un progettino che avrei in tasca, ma lasciamolo da parte. Rispetto quindi chiedo da parte degli altri editori, i quali perché devono ignorare Simonelli Editore, perché non devono stabilire dei contatti con Simonelli Editore, perché non c'è un dialogo di Simonelli Editore con le altre case editrici, grandissime, medie, piccole e piccolissime. Io sono qui, sono disponibile, mi piacerebbe molto stabilire questa sinergia, praticamente semplicemente anche di solo scambio delle idee. Rispetto e poi attenzione. L'attenzione io la chiedo ai colleghi della stessa professione, della quale mi onoro di far parte prima di essere un editore, sono un giornalista. Pensate, sono iscritto all'ordine dei giornalisti della Lombardia da oltre 50 anni. Infatti mi hanno dato, come a tanti altri colleghi nella mia stessa condizione, la medaglia ricordo dei 50 anni di iscrizione all'ordine dei giornalisti della Lombardia. Ebbene, dico ai colleghi giornalisti e ai colleghi giornalisti che si occupano delle pagine culturali o di cultura in genere, come mai? Non rivolgono mai la loro attenzione verso Simonelli Editore e verso gli e-book di Simonelli Editore. Forse non hanno ancora capito che noi produciamo innanzitutto e-book. Forse credono che non esistiamo più perché produciamo soltanto e soprattutto e-book. In ogni modo, fare il giornalista vuol dire innanzitutto essere curioso ed essere cronista di quello che accade intorno a noi. E dico ai colleghi del giornalismo culturale, voi state facendo i cronisti per quanto riguarda l'editoria digitale oppure semplicemente fate le operazioni più facili che si possono fare, ovvero parlare sempre di quelle 4, 5, 6, 7, 8 case editrici più importanti e più grandi e lasciare poi tutto il resto così nel dimenticatoio. Perché lo stile ormai comprovato per creare problemi in una realtà industriale e imprenditoriale è quella di ignorarla, di non parlarne mai, di non considerare l'esistenza di questa realtà. Simonelli Editore esiste, esiste dal 1995 e come vedete sta viaggiando a testa bassa verso il futuro.